All'inizio di un luglio straordinariamente caldo, verso sera, un giovane scese per strada dallo stanzino che aveva preso in affitto in vicolo S e lentamente, come indeciso, si diresse verso il ponte K. Tutti credo che sappiano la trama di delitto e castigo. C'è un giovane russo che si trova a essere un assassino senza nemmeno rendersene conto. E se lo trattassimo da fatto di cronaca, andando a vedere se le persone reagiscono a questa notizia che si somma a un'infinità di notizie di sangue? Possiamo una domanda? Ti interrogavamo sui fatti di cronaca nera recenti. Un russo, un giovane russo, che ha ammazzato una donna anziana che era una specie di usuraia, una strozzina. Che cos'è che poi a un certo punto spinge una persona così dal niente a diventare un assassino? È il paese che te ci ha posto. Ma lei è un po' spaventato da questo, no? Sono spaventato di notte tardi, sì, da queste parti, questo sì. Cioè quando senti questi fatti di sangue? Sento anche di peggio. Ma fa un po' paura questo? Eh beh. Penso proprio sì, eh? Sento non ha sentito il caso di cronaca, non segue la cronaca nera? No, no, la trovo non. Ma perché non la segui? Perché normalmente non seguo, non guardo i telegiornali, non seguo la cronaca nera. Neanche quando la cronaca nera è delito e castigo? Eh, mi coglio impreparata. Lo sai che è una storia molto simile a questa del signore, del giovane che ha ammazzato la vecchia e la sorella? Sta in un libro che si chiama Delitto e Castigo, non so se l'hai mai sentito, di un signore si chiama Dostoyevsky, un autore russo. Che pensa di quel libro? Eh, un libro misterioso. Misterioso? Misterioso e drammatico. È in italiano, è un po' lungo, però piano piano. Neanche io l'ho reletto il russo, è una storia interessante. Piano piano, magari a tempo perso, sì. Che dici? Quello era un russo che ammazzava la... Ma non è che i russi ammazzano la gente normalmente. No, questo no, questo no. Non è che...